Numerose autovetture d'epoca, la maggior parte risalente alla fine degli anni 60, anche se non sono mancate delle vere e proprie chicche rappresentate da alcuni esemplari della mitica Balilla, hanno fatto bella mostra di sé davanti al settecentesco castello dei Principi di Biscari e d'Acate, per la gioia degli appassionati. L'iniziativa, inserita tra le manifestazioni del settembre a Biscari, si deve al Veteran Club Ibleo di Ragusa, con il patrocino dell'assessorato alla cultura del Comune di Acate. Siamo alla quattordicesima edizione di questo autogilo che si svolgeva negli anni 50. In grosso modo ripercorriamo sempre le stesse strade, con qualche piccola variante, perché ci interessa anche il turismo per i partecipanti, la possibilità di visita culturale e nel contesto anche delle prove cronometrate che servono per dare un po' d'agonismo e la determinazione anche delle classifiche. In questa edizione è stata dedicata all'avvocato Mario Schidinà, concessionario Fiat di Ragusa, personaggio molto noto. Raccogliamo 86 equipaggi che vengono da Roma in giù, bellissime macchine, tantissime ante 45, vetture del 30, 32, 34, che sono in questo caso ospiti dell'organizzazione, stimolo per fare uscire queste vetture dai garage e farle vedere al pubblico creando così un museo itinerante. Quella di Acate è stata una delle tante tappe, dopo Scicli, Modica, Ragusa, Comiso, programmate in provincia nel corso dei tre giorni dall'11 al 13 settembre della quattordicesima rievocazione storica dell'autogiro della provincia di Ragusa. La manifestazione è riuscita a concentrare nella piccola cittadina Iblea dei veri gioelli della produzione automobilistica italiana e straniera degli anni 60 e 70, provenienti da varie province siciliane nonché da altre regioni del centro Italia. La comitiva, prima di riprendere il giro turistico in provincia, ha potuto ammirare allo splendido maniero di Acate, ricevendo al termine di una dimostrazione cronometrica su tracciato cittadino una targa ricordo da parte dell'assessore comunale alla cultura Antonia Salemi. Mi pare che la gente sia a corsa curiosa, perché finalmente abbiamo l'occasione, sono poche le occasioni, di vedere macchine d'epoca. Mi diceva ieri sera il Presidente che sono presenti, li abbiamo visti anche macchine anteguerra, li vediamo molto di rado dalle nostre parti. E questo è un momento, anche questo, di fare cultura, perché parla della storia della macchina, dell'auto, da quasi agli esordi, non dico fino ai nostri giorni, perché quelli dei nostri giorni li conosciamo molto bene, quindi è un momento che Acate ha voluto, l'amministrazione ha voluto dedicare. Viva soddisfazione per l'accoglienza ricevuta è stata espressa dagli organizzatori della manifestazione, intenzionati a ritornare quanto prima nella piccola cittadina eblea per un'altra simpatica parata di auto d'epoca.